Justin Bieber, Pharrell Williams, Ricky Martin o Matteo Renzi? Sono dunque questi i nomi che corrono nei corridori e nei rumors digitali in merito ai presunti ospiti presenti nella finale del Talent Amici 2014 in onda in diretta televisiva su Canale 5. Fanta TV o realtà? Di sicuro Elisa Toffoli, Giorgia e la beniamina di amici Alessandra Moroso sono ospiti confermati e molto graditi dal pubblico. In merito alla presenza del baby star più celebre al mondo Justin Bieber o del genio della black music Pharrell Williams siamo molto scettici a dire la verità. Avere Ricky Martin o il fresco vincitore elettorale Matteo Renzi può essere molto più plausibile. Stiamo a vedere. Intanto segnate la cifra 4.596.000 che rappresenta la media di spettatori avuti da Amici 2014 edizione 13 serale e che sta per essere battuta questa sera. Buon divertimento e vinca la musica!